n��� e ben ritornati ragazzi in questo avvisimo video tolgo volume perché mi cacco adesso e oggi siamo sulla fine the exit il finale esattamente di baby in the yellow ragazzi ormai mi sono appassionato di video horror siamo nell'ascensore come sempre la nostra vita è appassionata di dei giochi horror che non moriremo oddio come ho fatto a tornare qua ma ero no ma no ma la musichetta signor ma guarda come aspetta ma siamo in un altro appartamento è tutto al contrario ragazzi no aspetta aspettate non è al contrario oddio è al contrario è cambiato ragazzi non vedete questa parte dovrebbe essere da questo lato questa stanza è cambiata totalmente ma queste porte sono uguali no anzi che dico no è cambiato tutto al contrario mi sembrava di no invece aspetta o no ma si è al contrario guarda e ci credo tutto al contrario pazzesco adesso adesso sono obbligato a mettere quindi facciamo subito così andiamo subito subito al piano di sopra non mi cadere chiave del demonio andiamo subito sopra e ho tutto lo contrario cos'è mai ma guarda che bello la pecorina ma che carina il cornuto qui va bene andiamo a dargli la cosa tanto siamo tornati mi sa che si torna a pagarsi sarà che ci torni a pagare si torni a pagare eh te ma guarda che paghi te ora eh con i tuoi spizzoli maledetti i tuoi spizzoli i demoniati no cavolo mia la cucina è di qua lo devo ricordare che la cucina è di qua ok ecco qua ecco qua la bottiglia e aspettate pronti chi è te sei pronto eh te ciucciati questo ok ma è un po iniziato da capo no no facciamo così che succede se io tolgo questo che devo ti fossi arrabbiato tantissimo no vabbè teniamo teniamola teniamola continuiamo a ballare sì sì vai magari non ti arrabbi più come demone appunto 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 disgraziato cosa jet bottle aia tornato indietro è tornato indietro è successo qualcosa sta succedendo qualcosa aiaiaiai sta succedendo qualcosa ragazzi qualcosa di molto strano sappiamo tutti che cosa succede ragazzi quando questi belli occhiozzi che non sono nemmeno belli oddio aiuto eh pronti al jumpscare eh eccolo qua non c'è di nuovo lì ma no sta succedendo qualcosa che non mi piace si ripete continuamente avete capito avete visto ragazzi no 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 dobbiamo dobbiamo chiudere questa cosa è un'influenza no no ragazzi ho capito non ci sono jumpscare adesso è tutto è tutto così ho capito tenissimo aspetta forse togliendo la musica togliendo la musica magari adesso mi fa un urlo negli orecchi ok facciamo eh appunto ora non c'è è da lì eccolo no cosa succede cosa succede eh cosa succede no 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 non mi convince sta cosa c'è qualcosa ci abbiamo due chiavi andiamo subito a trovare aspetta no se è vero no vabbè aspetta eh che no niente che scherzavo scherzavo no andiamo un attimo su perché è molto strano no no eh ho visto t'ho visto ah no lo sapevo ah no no è tutto entusiastico per niente coniglio coniglio serve un'altra chiave qua c'è il coniglio coniglio bango no 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 odio no ho visto appena no io faccio schifo sono stato mezzo guardate 17 minuti sono passati dai 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 tantissimo da ma è diversa le macchinine le macchinine no ah le posso distruggere posso anche prendere l'ho presa oh posso usarla contro qualcuno che ne sono eh le cinque andiamo avanti senza e salve buongiorno come sta ma è un sedile tutto bene lei le lascio qua bello 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 ma questo non è scusa un attimo ma questa non è la cosa dell'inizio take baby accident boy aspetta eh devo ma quante cavolo di porte ci sono guardate ma questa porta è totalmente inutile ma ma sta porta è totalmente inutile ma che cosa stai scusate eh aspetta ma ma cambi colore oddio allora no eh non ti no fermo oh 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 non ti non perdiamoci in ma questo ok una sorta di una specie di altare del democ sì così tipi di no addio vattene via via ciao pussa via ora col cavolo via ah ok quindi tutto qui aspetta eh pronti al jumpscare non guardo eh ecco appunto ora ah a posto no ok aspetta eh di nuovo apriamo tu mi prendi in giro mi fai fare le cose fino all'infinito me le fai fare all'infinito no lo sai che io sono scemo non vedo le cose perché eh temi la porta tutto di nuovo perché perché mi fai impazzire io non ho un cervello da persona normale non riesco a pensare lo sai almeno questo lo sai no oh ora vado e si ripete tutto cosa devo fare guardarmi un altro tutorial su youtube ok adesso ah grazie signor coniglio le 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 grandissime grazie non ok non devo prenderlo ah ecco come devo fare parca azzor se anziolla ma mi hai cosa ora mi spunta di nuovo mi è venuto un co no però è fighissimo cioè mi sono spaventato ma è bellissimo è lui che esplode no ancora 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 guarda eh ora che mi spunta mi esplode di nuovo dove spari ora eh dove appunti avanti eeeh boom vai no non esce ma cos ma cos cos ma cos no ma cos'è ah 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 ma che razza di scherzo è questo e appasta una freccia non e e vai avanti mi dice così che faccio prendo il bambino lo metto di nuovo no no che va vado viva sparire ok ora accadrà la cosa peggiore della mia vita no cosa no io vado avanti cosa no le televi ma quella è una televisione no sono no non devo guardare non devo guardare la televisione non devo guardare la televisione oh mio dio non guardarle non guardare le televisione oh mio ma questa è una cosa dark assurda no non devo guardare la tv non devo guardare oddio non guardare la tv non guardare la tv no la tv fa male la tv fa male la tv fa male alle persone non devo farlo ah 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 cazzo sì sì ma grazie grazie per l'avviso non lo farò mai più non guardo mai più la televisione in vita mia mai più oh ho guardato la tv perfetto non ho guardato la tv sono riuscito ma questa cosa manca il pendolo ok decisamente questo è più interessante oddio oddio quella faccetta non mi convince è l'occhietta che c'entra oddio lo so non dormo eh non dormo perché fai quell'occhietta dai lo so che sei offeso non so che sei offeso ma mi dispiace ti riporto le via via scappo io scappo me ne oh cavolo no 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 sento le voci sento le voci però voi non le sentite che fortuna che voi non le sentite cosa devo fare passare dalla porta non passo dalla porta col cavolo ma cosa sono ma cosa sono ste voci cosa sono sti occhietti no è tornato lui no è tornato lui no no è tornato lui di qua di qua di qua di qua di qua no è tornato lui è tornato lui è tornato lui no 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 quel disgraziato di mio zio zio ciao Ciao zio Oddio Oh no vabbè è uno dei migliori giochi Che abbiamo mai visto mi piace da morire sinceramente Anche se ho Oh ma Eh Ok Vabbè a te ti lascio qua eh Dai là eh io vado verso la morte Ok Salve signor occhio gigante Che vuoi ok no devo metterti Devo letteralmente metterti a letto Non so se devo Cos'è questo è letteralmente un suicidio Ah no Tu il coniglio grazie coniglio No scusa Cioè il coniglio mi Sei pazzo coniglio che cosa mi dici Non sei il coniglio di Alice Perché devo lanciarmi Non mi fido al coniglio no io non metto la cuccia No vabbè Ragioniamo Se io non metto la cuccia muoio Però se mi lancio e vado Ok non so cosa fare Aiuto Vabbè Vado Ecco te Mettiamoti nell'altare Oh occhio gigante Che sinceramente non sembra un occhio Sembra più No 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 Perché appena ti avvicino la tua faccia diventa più scura Eh Parla Perché Oddio che paura Oddio che paura Ok io non guardo eh Sal Ma Non lo so cos'è successo Cioè mi ha urlato Vabbè non Questo c'è Ah ho perso Ah ho perso Ah ho perso Questo mi dici te Ti ha disgraziato Ok Adesso ho capito Ho capito il coniglio di Alice cosa mi ha detto Devo non lo metto nel letto No No occhio gigante Lo do in pasto Voi andate Vai Oddio Ma Ma Ti Non si cassegredere Vado via Vado via Voglio salvarmi Sì Credo di averlo ucciso al credo almeno Suppongo Suppongo Vabbè io del coniglio mi fido eh Vettela Sinceramente Via Finiamo il gioco per una volta Tutte No 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 Ok Avanti Sappiamo che dobbiamo girare Via Via Ci segue il t Oh no no come cosa Ah di qua Ah Apri Sì No 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 Ma Che capo Ah No dai ma perché non si apre qua Ma dai Ah Via 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 Non è di cosa che faccio Qui Qui sotto Por Don't live No don't live Oh ciao È tuo amico quel tipo Ciao ma è il tuo Te è la papera No No non vuoi la papera Cosa Cosa vuoi Quello lì chi è Scusate Scusate Un altro tuo amico eh Un altro di tuoi amici Dei tuoi amici Strani Prima quello là Ora questo Questo qui Chi è Eh almeno E te e tuoi amici strani Perché mi No no vedo la lava già Vedo già la mia vita segnata Ci tuffiamo va Andiamo Via Corriamo senza nemmeno Ecco eccoci Gira 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 E' tornato quel maledetto di un amico Di quel Pelato Di un bambino piccolo Che Che Coward Di qua Lucidati Dannazione No mi ha cambiato No E quella Bella testa eh Wow Ok E ora c'è No vabbè Che cavolo Si No No il latte Il latte Il coniglio Grazie Grazie al coniglio bianco Run light La Il piccolo rabbit Allora corri Dal piccolo rabbit Tu Non Cioè Non 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 fammi sti Ho vinto Ancora Ma c'è No Dai Va bene Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito il gioco ragazzi Eh ce l'abbiamo fatta More coming Son In 2022 Cioè Non ho capito cosa abbiamo finito Cioè Siamo andati in una porta bianca Che Ma la foto è riciclata Ragazzi Guardate La foto è riciclata letteralmente La stessa dell'ultima volta Ah ok Non hanno ancora fatto Il Il nuovo bet Ok ragazzi Spero vi sia piaciuto questo video Iscrivetevi al canale E E niente Ciao